Se io vi dicessi SEU, Grit Party o Generazione Distribuita, quanto sapreste rispondere? E quanto saprebbero rispondere soprattutto i più giovani? Siamo andati a chiederlo agli studenti del Politecnico di Milano. Che cos'è il SEU, Sistema Efficiente di Utenza? La vendita diretta di energia rinnovabile del produttore e del consumatore. Contatore per calcolare gli sprechi energetici in casa. E B, non ne ho idea. Un contatore per calcolare gli sprechi energetici in casa. B, io dico C. Che cos'è la Grid Parity? Non ne ho idea, direi non ne ho idea. A. Che cos'è la Generazione Distribuita? C. Produzione di energia in piccole centrali disperse sul territorio. Posso provare a spararla questa? La produzione di energia in piccole centrali disperse sul territorio. Cosa dicono i ragazzi del Master RIDEF 2.0 del Politecnico di Milano? Scopriamolo insieme. B. Un contatore per calcolare gli sprechi energetici in casa. La vendita diretta di energia rinnovabile da produttore e consumatore. Il SEU è la vendita diretta di energia rinnovabile da produttore e consumatore. Seconda domanda, che cos'è la Grid Parity? L'opzione B, uguale costo di energia rinnovabile e fossile. È una parità da un punto di vista commerciale sulla rete e non sulla produzione dell'energia elettrica. Cos'è la Generazione Distribuita? La C, nel senso che è una distribuzione diffusa della generazione di energia. C, la produzione di energia in piccole centrali disperse sul territorio. C, la produzione di energia in piccole centrali disperse sul territorio.